Buongiorno a tutti, io coglierò con estremo dovere l'invito a essere breve, parlerò spero meno di 5 minuti. I dettagli tecnici circa l'applicazione della tecnologia li abbiamo avuti snocciolati in più dati in ambito di ricerca con il commissario dell'Enea, altri relatori, Angelo Antoni che è un addetto ai lavori e quindi questa parte vorrei volutamente saltarla. A profitto della circostanza so che in sala ci sono degli imprenditori spagnoli che saluto e li saluto in maniera particolare perché vorremmo che a partire dalla tecnologia di cui parliamo e per questo abbiamo aderito con piacere all'iniziativa la Sicilia diventi un luogo di attrazione per gli investitori. Un saluto a vosotros e il tema su cui noi dobbiamo cercare di introdurci per arrivare a essere concrete, io sotto questo profilo in questa direzione mi muovo, pone una focalizzazione sullo scenario nel quale siamo chiamati a decidere e a condividere. Il tema dell'energia nel mondo è regolato da un prezzo che è la materia prima di riferimento che è quello del petrolio e questa è la prima riflessione forte che dobbiamo cercare di fare. Il nostro paese esporta ricchezza perché compra petrolio dall'estero. C'è un dibattito forte nella comunità finanziaria, negli operatori, nel paese se deve ancora continuare a essere l'elemento regolatore il valore petrolio perché fin quando noi continueremo ad avere come riferimento il valore petrolio anche per ciò che è alternativo al petrolio questo è un limite oggettivo perché chi detiene la capacità e la ricchezza finanziaria che negli anni ha accumulato in qualche modo continua ad essere indirettamente il regolatore di ciò che è l'alternativa al petrolio. Questo è un tema forte che non è italiano e che quindi va affidato alla capacità dei governi che devono negoziare per alternare il riferimento al petrolio. Non è semplice perché ci portiamo 40 anni di tradizione verso quella direzione e ognuno che deve essere pratico e oggettivo comprende la difficoltà. Collochiamoci adesso dopo aver fatto quello scenario all'apprezzata relazione che ha fatto il GSE. Gli dicevo a bassa voce lo citerò. Perché lo citerò? Per noi comunità delle imprese il GSE è un buon partner perché non parla con gli imprenditori, parla solo con la posta elettronica, non ama avere contatti con le imprese. Questo garantisce alla comunità dei suoi partner con cui viene a dialogare trasparenza, praticità, certezza. Caliamoci adesso nel tessuto italiano prima e siciliano dopo dopo aver fatto questo apprezzamento verso il GSE per il modello che applica. In Italia abbiamo riformato il titolo quinto delle regioni e consegnato alle regioni competenze. Le regioni hanno competenze nelle materie di cui parliamo, nei processi programmatori, redigono e propongono i programmi e nei processi autorizzatori. in premessa avevo detto che voglio affrontare alcuni aspetti pratici. Il programma energetico della regione siciliana, gli addetti ai lavori sanno, è stato oggetto di rimaneggiamenti in più tempi che riflettono sensibili legittimità di chi è chiamato a proporre come intende pianificare perché il cittadino e l'attore e al governatore e alla sua maggioranza che danno l'onero di pianificare su quel settore, di come intende affrontare il tema. Negli ultimi anni, per rimanere alla Sicilia, abbiamo notato che il danno su quel compatto è rilevantissimo, non solo in termini di ritardo accumulato, ma anche in termini monetari, perché pezzi di altre regioni italiane più veloci, aggiungo forse meno litigiose, hanno intercettato meglio di altri l'innovazione che è correlata all'uso della leva che il GSE mette a disposizione per competere. Poco fa veniva fatto un preciso riferimento circa le aree industriali, avevo anticipato a bassa voce a Vangelandoni che su quel lido della praticità, tra l'altro il presidente della fondazione è stato molto esplicito e saremo anche noi della partita, siamo pronti a cooperare. Per cominciare a dire, le imprese che producono nelle aree dei distretti produttivi siciliani possono esportare valore aggiunto nella misura in cui i loro prodotti, siano essi di beni, di servizi o di materia in ogni caso, sono generati da un'energia pulita. Quindi le imprese e il contesto produttivo hanno necessità di alimentare i propri circuiti produttivi da una fonte non tradizionale e ce l'hanno nella misura in cui possono vendere, virgolette, meglio i loro prodotti. Questo però, ed è il tema anche di oggi, non deve indurre nessuno, perché a nostro avviso commette un grave errore, a mettere contro parti che generano nell'innovazione l'energia elettrica e nella ricerca e altri che operano nel tradizionale. Questo non serve a nessuno, perché lo scontro non genera opportunità, genera soltanto scontro. Quindi pronti a cooperare su quel preciso disegno che veniva, credo da Consoli, sì, indicato, siamo pronti a fare la nostra parte. Che cosa vi anticipiamo sul tema del termodinamico a nostro avviso possiamo valorizzare meglio? Il valore aggiunto di quella tecnologia risiede nella sua capacità, che le altre rinnovabili hanno di meno, tranne le biomasse, nell'offrire la possibilità di una maggiore programmazione. Questo si sposa bene con il contesto siciliano che, come è noto agli addetti lavori, sconda in alcune parti, anche qui per gli atalici ritardi, difficoltà di importazione e di trasmissione nella rete. Concludo come può la comunità e gli imprenditori, che io spero di rappresentare, salutare con interesse al meglio questa iniziativa. Con due praticità. Il primo, nelle iniziative che posta evento di oggi, per il quale rinnoviamo un plauso, andremo a concorrere anche noi per la parte che ci riguarda a scrivere, a descrivere, occorre dare un'offerta di una proposta orizzontale al nuovo governo della regione che arriverà. Ne approfitto per salutare uno dei candidati, un saluto particolare. Buon lavoro e buona campagna elettorale a lei e a tutti gli altri competitori. E, la seconda circostanza, vorremmo che, al pari della comunità di chi produce, che si presenta all'offrire all'istituzione governo idee proposte, consci che alla politica che va riservata del primato delle scelte e soprattutto anche in termini di politiche industriali, lo dico da imprenditore, vorremmo che il nuovo governo, cosa che fin qui non siamo riusciti ad ottenere, nonostante le urla a più non posso, cessi la mediazione a volte impropria, siamo in campagna elettorale, quindi spero di usare termini moderati, tra le preposte articolazioni della regione, che sono chiamate a rilasciare i permessi ai pareti e dei comuni, non solo della regione, e la comunità degli imprenditori interessati. Come? Facendo quello che molto lo abbiamo apprezzato in pubblico, ha fatto il GSE, offrendo alla comunità degli imprenditori le relazioni per il tramite di un format su piattaforma elettronica, in maniera tale che se la mia istanza è stata depositata giorno 10, qualcuno che la dovesse trattare prima del 10 deve rendere ragione alla comunità tutta del perché c'era una fana, c'era un'emergenza, scadevano gli investimenti, allora nessuno è oltremodo fuori dalla realtà. Partendo da questi due concetti forti noi ci metteremo l'anima, la faccia e la firma. Buon lavoro.